No, non può passare in mezzo, fa tutto qui. Eh, va, sto qui, senza... non vado niente. No, le persone non devono passare, ecco perché... Sì, sì, tranquillo. Signore, scusatemi, non vi è in piedi, non c'è un po' di scuola, per favore. Sto per la capire. Posso andare? Non ti parla che non maglie nulla. Dove stai tu, aspetta. La mazza argentea di Viterbo era il simbolo del potere temporale del papato ed era sempre presente in tutte le manifestazioni solenni dei magistrati e dei dignitari ecclesiastici. Portata dal maggiordomo del comune, unicamente alle chiavi della città, era presentata in segno d'omaggio a sovrani e papi in visita alla città. Questo quadro scenografico della vita cittadina scomparve nel 1870 con la nascita dello Stato italiano e conseguente fine del potere temporale della Chiesa. Il sindaco di Viterbo, Giovanni Arena, consegna al magistrato pontificio del corteo storico la mazza argentea simbolo del potere temporale. grazie a tutti. Grazie. Grazie.